Sono Paolo Pugni e sono un consulente di profitto. Il mio compito è quello di aiutarti a spremere fuori dai tuoi prodotti le tue vere soluzioni per permetterti di vendere di più, con più margine e con più facilità. Insieme possiamo valutare come le tue soluzioni possono avere un impatto immediato sui profitti dei tuoi clienti e quindi utilizzare questo valore come strumento di comunicazione e come strumento di vendita per rendere più facile la proposta di ciò che offri ai tuoi clienti. Mettimi alla prova, prenota un'ora di consulenza per capire se sono in grado di aiutarti. Ti chiedo solo 20 euro per testimoniare il tuo reale interesse. Ti aspetto!